Dal punto di luce entro la mente di Dio affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Nelle prime tre righe abbiamo un riferimento alla mente di Dio, quale punto focale della luce divina. Questo si riferisce all'anima di tutte le cose. Il termine anima, con il suo principale attributo di illuminazione include l'anima umana e il punto di luce, che consuma che consideriamo l'anima addombrante dell'umanità. Quell'anima porta luce e diffonde illuminazione. Si ricordi sempre che la luce è energia attiva. Quando invochiamo la mente di Dio e diciamo affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra, esprimiamo uno dei grandi bisogni dell'umanità e, se l'invocazione e la preghiera significano qualcosa, la risposta è certa e sicura. Se troviamo che in tutti e in ogni tempo, in ogni epoca e in ogni situazione, è presente l'impulso a lanciare un appello al centro spirituale invisibile, vuol dire che tale centro esiste con certezza. L'invocazione è vecchia quanto l'umanità stessa. Il Cristo ci dice che gli uomini amano l'oscurità piuttosto che la luce perché le loro azioni sono cattive. Non di meno, una delle grandi bellezze emergenti in questi tempi è che la luce viene gettata in tutti i luoghi oscuri e nulla via di nascosto che non possa essere rivelato. La gente riconosce l'attuale oscurità e miseria e di conseguenza la luce è bene accolta. L'illuminazione della mente degli uomini affinché possano vedere le cose così come consente di percepire i giusti moventi e in questo momento il modo di realizzare giusti rapporti umani è la necessità principale. Nella luce portata dall'illuminazione alla fine vedremo la luce e verrà il giorno in cui migliaia di figlie degli uomini e innumerevoli gruppi saranno in grado di dire con Hermes e con Cristo sono o siamo la luce del mondo. Dal punto di amore entro il cuore di Dio affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Nelle seconde tre righe è coinvolto il cuore di Dio e viene considerato il punto di amore. Questo cuore del mondo manifesto è la gerarchia spirituale, il grande agente di trasmissione dell'amore a ogni forma della manifestazione divina. L'amore è un'energia che deve giungere fino ai cuori degli uomini e che deve fecondare l'umanità con la qualità di comprensione amorevole, questo è ciò che si esprime quando amore e intelligenza vengono riuniti. Quando i disceppoli opereranno sotto il riconoscimento del Cristo, verrà il momento in cui egli potrà di nuovo camminare pubblicamente fra gli uomini. Egli potrà essere riconosciuto pubblicamente e compiere così la sua opera ai livelli esteriori della vita, come pure sui piani interiori. Accomiatandosi da loro Cristo disse ai suoi discepoli Ecco, sarò sempre con voi, fino alla fine dei giorni. Quando il Cristo verrà, fra gli uomini avverrà la fioritura di una grande attività del suo tipo di coscienza. Egli rilascerà nel mondo degli uomini la potenza e l'energia caratteristica dell'amore intuitivo. Il risultato della distribuzione di questa energia d'amore sarà duplice. In primo luogo l'energia attiva della comprensione amorevole mobiliterà un'imponente reazione contro il potere dell'odio. Odiare, essere separati ed esclusivi verrà considerato l'unico peccato, poiché si riconoscerà che tutti i peccati elencati, ora considerati sbagli, originano soltanto dall'odio e dal suo prodotto, la coscienza antisociale. In secondo luogo, un numero incalcolabile di uomini e donne di ogni paese formeranno dei gruppi per promuovere la buona volontà e per realizzare giusti rapporti umani. Essi saranno così numerosi, che da un piccola e relativamente poco importante minoranza diverrà la forza più grande e influente del mondo. Dal centro dove il volere di Dio è conosciuto il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito, che i maestri conoscono e servono. Nelle terze tre righe troviamo una preghiera secondo cui la volontà umana può essere conformata alla volontà anche se questo possa non essere compreso. In queste tre righe si indica che l'umanità stessa non può ancora afferrare il proposito di Dio, quell'aspetto del divino, che cerca espressione immediata sulla terra. Certamente, però, mentre il proposito della volontà di Dio cerca di influire sulla volontà umana, in termini umani si esprime come buona volontà, come determinazione evidente o come intenzione determinata di realizzare giusti rapporti umani. La volontà divina, come essenzialmente, rimane il grande mistero. Persino il Cristo stesso ebbe a lottare con il problema della volontà divina e si rivolse al Padre nel momento in cui realizzò l'estensione e la complessità della sua missione di Salvatore del mondo. Egli esclamò allora Padre, non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Quelle parole segnarono l'abbandono dei mezzi con i quali aveva tentato di salvare l'umanità, gli indicava ciò che a quei tempi poteva sembrare un insuccesso apparente e che la sua missione non era compiuta. Per quasi duemila anni egli ha atteso di portare a compimento quella missione. Non può procedere nella missione assegnata agli senza l'azione reciproca dell'umanità. Questa invocazione è peculiarmente ed essenzialmente il mantra proprio del Cristo e il suo suono è stato emanato in tutto il mondo per mezzo della sua enunciazione e perché usato dalla gerarchia spirituale. Ora le sue parole devono attraversare tutto il mondo enunciato dagli uomini e di ogni dove il suo significato dovrà essere espresso dalle masse a tempo debito. Il Cristo potrà scendere di nuovo sulla terra, vedere l'opera della sua anima ed esserne soddisfatto. Dal centro, che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Nelle quarte tre righe, avendo invocato i tre aspetti o potenze di mente, amore e volontà, abbiamo un'indicazione del loro ancoraggio nell'umanità stessa, nel centro, che viene detto il genere umano. Qui e soltanto qui le tre qualità divine possono esprimersi e trovare compimento nel tempo e nello spazio, qui e soltanto qui può nascere il vero amore, l'intelligenza può funzionare correttamente e la volontà di Dio dimostrare la sua effettiva volontà di bene. La porta dietro cui il male risiede può essere sbarrata soltanto dall'umanità, sola e senza aiuto, salvo quello dello spirito divino insito in ogni essere umano. La riga finale della quarta stanza richiede forse una spiegazione. Questo è un modo simbolico di esprimere l'idea di rendere inattivi e inefficaci i cattivi propositi. Il male non ha un'ubicazione particolare, nel Libro della Rivelazione, il Nuovo Testamento parla di male, della distruzione del male e di rendere Satana impotente. La porta dietro cui il male risiede è tenuta aperta dall'umanità con i suoi desideri egoistici, i suoi odi e il suo separatismo, dalla sua avidità e dalle sue barriere raziali e nazionali, dalle sue ambizioni personali e dal suo amore per il potere e la crudeltà. Con l'affluire della buona volontà e della luce nelle menti e nei cuori degli uomini, queste cattive qualità e queste energie indirizzate che mantengono aperta la porta del male faranno posto al desiderio di giusti rapporti umani, alla determinazione di creare un mondo migliore e più pacifico e all'espressione mondiale della volontà di bene. Mentre queste qualità sostituiscono quelle vecchie e indesiderabili, simbolicamente la porta dove il male risiede si chiuderà lentamente grazie al peso dell'opinione pubblica e al semplice peso del giusto desiderio umano. Nulla potrà arrestarlo. Che luce amore e potere ristabiliscano il piano sulla Terra. È evidente, che le prime tre stanze o versi invocano, o fanno appello, ai tre aspetti della vita divina universalmente riconosciuti la mente di Dio, l'amore di Dio e la volontà o proposito di Dio. La quarta stanza indica il rapporto dell'umanità con queste tre energie, di intelligenza amore e volontà, e la profonda la responsabilità del genere umano di effettuare la diffusione di amore e di luce sulla Terra per ristabilire il piano. Questo piano chiama il genere umano ad esprimere amore e sfida gli uomini a far splendere la loro luce. Segue poi la solenne richiesta che questo piano di amore e di luce, operando tramite il genere umano, possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. La riga finale contiene l'idea di ristabilire, che indica la nota chiave per il futuro, e che verrà il giorno in cui l'idea originale di Dio e la sua intenzione iniziale non sarà più ostacolata dal libero arbitrio e dal male, dal puro materialismo ed egoismo, il proposito divino, grazie al cambiamento dei cuori e degli obiettivi umani verrà allora compiuto. Così sia Amen. Alice Bailey